In collaborazione con Centurion Payroll Service, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda. Cari telespettatori, buonasera, benvenuti a Forum Imprese. Stasera qui a Forum Imprese siamo in compagnia di tre imprenditori di successo e mi riferisco a Francesco Maria Di Bitetto, CEO di Old Car 24. Buonasera. Buonasera, buonasera da Andrea De Donno, CEO di Blusec Sa. Buonasera. Buonasera. E abbiamo anche il graditissimo ritorno di Carmine Pasquariello, di Pasquariello il gusto italiano. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Ecco, volevo chiedere a Francesco Maria Di Bitetto di che cosa si occupa la sua azienda esattamente. Sì, Old Car 24 è un portale di annunci di auto d'epoca a cui ho dato vita durante gli studi universitari nel 2013. Quest'anno il portale compie 10 anni, è un riferimento per collezionisti appassionati a livello globale, la piattaforma è in cinque lingue e consente sia ai privati che alle concessionarie di poter essere consultata per fare acquisti o vendite di vetture storiche, classiche da collezione. Quest'anno per i 10 anni ho organizzato, ho ideato un evento che è la Milano Portofino, si terrà il 28, 29 e 30 aprile di quest'anno, con il supporto di mio papà e dell'amico Andrea De Donno che è qui accanto a me. Con le nostre aziende abbiamo sponsorizzato questa iniziativa che coinvolgerà 24 auto storiche, a partire dagli anni 20 sino a fuori serie degli anni 50 e 60. Toccherà a questo evento due eccellenze che sono Milano, punto nevralgico e cuore pulsante dell'attività economica, della moda, dell'alta finanza e dall'altra Portofino, una meta storica conosciuta in tutto il mondo per il suo turismo e quindi in contraposizione vediamo una realtà dinamica che è quella milanese e dall'altra una realtà incantata ad accogliere i 24 equipaggi, poetica per così dire, che è la piazzetta di Portofino, che con le sue facciate colorate farà da cornice a questo evento. I equipaggi sono esattamente 24 perché 24 è il numero del portale di All Car e quindi è questo il richiamo a questo numero che voi vedete anche all'interno del logo, il bollo gara della vettura riporta proprio il 24 non a caso. Quindi c'è tanto fermento, abbiamo già raggiunto l'obiettivo dei 24 equipaggi, in realtà ne abbiamo avuti di più ma per quest'anno dato che si tratta di un numero chiuso abbiamo dovuto rispingere alcune iscrizioni che teremo per l'anno a venire perché l'idea è quella di far sì che questo diventi un appuntamento annuale, con cadenza annuale. Si partirà dal centro di Milano, dal quadrilatero, ci sarà uno speaker che presenterà tutte le vetture davanti al Grand Hotel di Milano, storica casa di Giuseppe Verdi, ci sarà il venerdì sera del 28 aprile una visita a porte chiuse del Museo Pol di Pezzoli, quindi un evento turistico-culturale a Portofino la domenica saranno esposte in piazzetta dalle ore 10 fino alle ore 14, quindi tutti potrete ammirare esposte queste 24 bellissime vetture. La regina dell'anteguere sarà una Bugatti T35 che ha corso in mille miglia, ci sarà una Bente Speed Model, ci saranno fuori serie anni 50 e anni 60. Ricalco fuori serie perché l'Italia è un po' la patria del design delle vetture con le linee più belle, noi abbiamo la carrozzeria Zagato, la carrozzeria Touring Superleggera, insomma vetture che sono uscite dalle mattite dei più grandi designer al mondo e passeranno sempre la storia per questo. Complimenti, io il 29 sarò a aspettarvi a Portofino. Fantastico. Ma a che è rivolto questo evento soprattutto? Lo chiedo Andrea De Donno. Sì, è rivolto appunto a questi 24 equipaggi, sono tutte autovetture prodotte fino al 1970, abbiamo dei proprietari che arrivano dalla Spagna, un'autovettura che è stata esposta a People Beach, quindi molti iscritti stranieri, un sold out fatto abbastanza velocemente, a tal punto che stiamo già raccogliendo le iscrizioni per l'edizione 2024. Tra l'altro tengo a precisare che il marchio Milano Portofino è stato registrato e stiamo iniziando ad avere qualche contatto, qualcuno interessato a questo marchio, qualche grosso gruppo legato un po' al mondo del lusso. Vedremo che cosa aspetterà. Sì, diciamo che questo evento è animato dalla passione, quindi le tre chiavi sono eleganza, stile e passione. Quindi da qui parte tutto e l'idea è quello di portarlo avanti nel tempo e poterlo farlo crescere. Beh, complimenti, congratulazioni. Bella, bella iniziativa, sì sì, io lo assisto tutti gli anni a Brescia con la Mille Miglia, quindi da quello che mi pare di capire è una cosa abbastanza simile, forse un attimino più nobile come iniziativa, però veramente lodevole. Vuole celebrare proprio queste due grandi città. Posso fare una domanda? E come no? Ma c'è qualcosa anche di... c'è una gara all'interno o è solo un'esibizione? No, è un evento experience dove si lega il culto dell'automobile con la bellezza delle location storiche. Diciamo che è una passeggiata. Soprattutto mirato anche per far divertire le signore, che è una componente importante dell'equipaggio, dove generalmente su gare che sono eventi che sono legati alle competizioni, il gentil sesso talvolta si annoia. Questo è fatto apposta per far divertire e far godere, ad esempio, appunto il Museo Pol di Pezzoli, le bellezze artistiche e un viaggio senza il cronometro in mano. Un evento turistico-culturale, nel vero senso della parola. Io invece assisto a grande agonismo nella Mille Miglia a Brescia, e lì veramente c'è la mania della precisione con i cronometri in mano, la pinzionatura. È un altro obiettivo. È proprio tutto un altro mondo quello lì, però è veramente affascinante perché quando vedo quelle macchine sfilare è veramente una cosa di molto molto interessante, è veramente lo spettacolo, è una bellezza. Si torna indietro nel tempo, le antiche emozioni della pura meccanica. Complimenti perché è una bellissima iniziativa, molto bella. È un'iniziativa che rientra sempre nel celebrare le bellezze italiane, no? Milano, Portofino, le macchine. Poi faremo una sosta nell'Oltre Poppavese, nei Colli Verdi, è una tenuta con una degustazione dei vini tipici del posto. Ottimi vini, ottimi vini. Faremo una tappa a Bobbio, infatti colgo l'occasione per ringraziare anche l'ACI Milano, l'Avvocato Geronimo Larussa che ci ha dato il patrocinio per questo evento, consentendoci di esporre le vetture al Palazzo del Senato. Ringrazio il sindaco di Bobbio, che è una località, una tappa che sarà tra i Colli Verdi e la Liguria, quindi faremo una sosta lì. Ringrazio anche il sindaco di Portofino che ci ha dato il patrocinio per questo evento, concedendoci la piazzetta, che è cosa rara. Eh, beh, immagino. E quindi anche loro si occupano di eccellenze italiane, come se ne occupa Carmine Pasco Rietta. Un ottimo connubio con quello che faccio io, perché è quello di valorizzare l'Italia, ma io lo valorizzo attraverso gli alimenti, che poi diciamo che è una, forse, la principale, è il principale prodotto che contraddistingue la qualità e l'eccellenza italiana, prodotto alimentare. Eh, sì, sì, sì. Parlavamo prima del Pavese, e il Pavese può essere una cosa, scusa, può essere una cosa, il vino Pavese, dell'oltre proprio Pavese, lo conosciamo benissimo, e poi il mio mestiere è proprio quello di andare a trovare lungo il territorio italiano tutti i prodotti tipici di alta qualità che identificano le varie zone italiane, e quindi sicuramente lungo il loro tragitto per fare una trade union ogni città che voi andrete a toccare vedrete che c'è un piatto, un prodotto che lo identifica, e questo è il vero valore della qualità italiana. Da bellezza ai piaceri del Made in Italy, che facciamo riscoprire anche gli equipaggi stranieri che parteciperanno all'evento. Sì, infatti tantissimi stranieri amano l'Italia proprio per le vetture, per la bellezza delle città italiane e anche per il mangiare italiano, quindi diciamo per fortuna non ci manca nulla. No, non ci manca niente, e poi Andrea De Dono in questo periodo si parla molto di macchina elettrica, in qualche maniera voi state andando contro tendenza. Sì, da un lato c'è l'ecologia, da un lato che quello che spingiamo noi è preservare la storia. Oggi chiacchierando con diversi amici concessionari sono un attimino dispiaciuti del fatto che ormai in salone entra il ragazzino, i figli con la mamma, entrano in abitacolo, guardano se lo schermo è abbastanza grande, papà compra questa, nessuno più chiede di fare un giro di prova, nessuno apre un cofano per vedere la bellezza di una meccanica e quindi a nostro avviso abbiamo anche una mission, cioè quella di educare i giovani, i giovanissimi, all'importanza comunque della meccanica che ha contraddistinto il Novecento, dal futurismo con il D'Annunzio e il Marinetti ai nostri nonni, perché aprire la portiera di un'autovettura d'epoca, sentire quell'odore ti ricorda quando magari eri ragazzino, quando giocavi con il nonno o con i tuoi cugini, insomma è fondamentale anche questo. Visto che le autostoriche vengono utilizzate per eventi o eventualmente sabato e teradomenica, a nostro avviso è importante preservarle e non limitarne troppo la circolazione. Ecco, a proposito diciamo di connubio con il Made in Italy, avete previsto anche un connubio con la moda? Allora, noi abbiamo aperto dei dialoghi che però saranno maturi per la prossima edizione del 2024, siamo in trattativa con delle aziende fashion, perché l'automobile con la moda sono sempre andate a braccetto. Negli ultimi 20-30 anni abbiamo avuto diversi esempi, posso citarle perché sono autovetture non più in produzione, dalla Y10 Missoni, la Y10 Fila, Maserati Biturbo Missoni, per Lancia, con la Delta e le vecchie Lanciatema c'era Alcantara, Lamborghini fece un modello Versace, quindi sono sempre andate a braccetto e spesso il design di un'autovettura ha ispirato un certo tipo di moda, spesso la moda ha ispirato gli interni tessuti, il design di un sedilo, di un cruscotto rivestito. Quindi sicuramente sì, soprattutto prevediamo anche delle belle scenografie, dove delle modelle in abito heritage possano sfilare attorno alle vetture esposte, quindi creando, abbiamo anche previsto dei momenti musicali particolari creati ad hoc, proprio per ricreare una certa atmosfera verso la bella epoca, insomma. Giuseppe Gardali è un noto musicista che verrà a fare proprio una serata al Grand Hotel del Milan, quindi ci sarà una serata poi a tema con questo direttore d'orchestra, e poi tornando invece al discorso della moda, degli abiti... E poi torno con la pubblicità. Va bene. Cari telespettatori, riprendiamo la nostra trasmissione facendo vedere cosa ci ha portato Carmine Pasquarello stasera. Possiamo illustrare ai telespettatori? Eh beh, la settimana prossima ci sarà la Pasqua tra qualche giorno, quindi vi ho portato la mia punta di diamante che è la colomba al pistacchio di Bronte. Prima parlavamo di eccellenze italiane, questa è una delle tante eccellenze che si hanno lungo il territorio italiano. Qua siamo precisamente in Sicilia, nei pressi dell'Etna, infatti grazie a una sinergia tra il clima e il terreno dovuto all'apildo di questo vulcano, riusciamo a ottenere un prodotto eccezionale che è il pistacchio. E quindi da qualche anno ormai viene commercializzato questo prodotto, che è il pistacchio, in varie versioni. Io propongo questa colomba particolare che è un lievitato pandorato, quindi senza canditi, però sopra poi vedete c'è del cioccolato bianco molto molto buono, la granella di pistacchio di Bronte DOP e poi all'interno della confezione trovate anche un vasetto di crema perché come in pasticceria viene spalmato al momento su ogni fetta, questo lo rende unico. Parlavamo prima fuori onda che le caratteristiche del pistacchio come le nocciole sono caratteristiche eccezionali e fanno molto bene anche alla salute, diciamo. Quindi questa colomba, assieme a tante altre colombre, tipo quella fatta con le nocciole IGP del Piemonte o quella con le mandorle siciliane molto dolci, fanno parte dei tanti prodotti che potete trovare sia sul mio sito o tramite Whatsapp, come vedete in sovraimpressione. Poi c'è la classica colomba, quella intramontabile, fatta con i canditi, con le mandorle. Sono tanti prodotti che raccontano l'Italia. Il pistacchio ormai è entrato nell'uso comune anche la mattina, uno fa colazione al bar, c'è la brioche col pistacchio. Poi c'è anche in varie versioni, una volta si faceva solo dolce, adesso sta andando di mano il pistacchio salato che prende sempre più spunto. Anche, ecco, perfetto. Allora torniamo a parlare della Milano-Portofino. Dicevamo che avete degli eventi anche in cui si esibiranno degli artisti, degli eventi cantati, diciamo così. A livello musicale, come dicevo, del musicista Vincenzo Gardani in occasione della serata. Poi tornando al discorso di prima della moda dei motori, quello che ci tengo a sottolineare, che non a caso prima ho citato, sono le fuoriserie degli anni 50 e 60, che erano vetture che venivano commissionate negli atelier e venivano disegnate queste carrozzerie e l'auto veniva rivestita come se fosse un abito sartoriale con la carrozzeria. Questa pelle d'alluminio che riveste il talaio tubolare, per esempio, delle vetture carrozzate touring superleggera. Quindi questa è la particolarità dei mezzi che vedrete in occasione dell'evento. Ci sarà anche una, posso dare la notizia in anteprima, una Ferrari Barchetta 225S carrozzata Vignale, che proviene da Peeble Beach e anche la protagonista del grande schermo, che è la lancia Aurelia B24 Spider, che ricordiamo tutti con il film Il Sorpasso, famosissimo. Ecco, queste sono alcune delle vetture che vedrete. Ecco, ora io mi metto dalla parte del telespettatore, no? Se ci fosse un appassionato oggi non può più partecipare in questa edizione perché ormai è completa? Abbiamo raggiunto l'obiettivo e il numero limite dei 24 equipaggi in tempi molto rapidi. Questo evento è stato promosso in primis da Allcar24. Come dicevo prima, è una piattaforma online che oggi supera i 42 milioni di impressioni, quindi è molto cliccata e visitata dai passionati e collezionisti. Quindi, le devo dire che siamo rimasti sorpresi perché in realtà ne sono arrivate più di iscrizioni rispetto al previsto, insomma. Quindi diciamo che questo è un piccolo successo per noi, anche perché è il primissimo evento che io organizzo. Quindi chi avesse questo desiderio deve mettersi in lista di attesa per l'anno prossimo, magari riesce ancora a iscriversi per l'anno prossimo. Sì, sicuramente. Questo per chi vuole viverlo da protagonista, però venire a vedere da quello che si diceva. Da visitatore, le vetture saranno esposte all'interno del Palazzo del Senato, il venerdì sera, il 28 aprile. Il 29 aprile, il sabato mattina, verranno presentate da uno speaker, le vedete sfilare in via Manzoni, davanti al Grand Hotel de Milan, come vedete nelle riprese. E quindi l'altra occasione ci sarà anche in Piazzetta Portofino la domenica. Fantastico. Invece per le nostre bellissime colombe, se un telespettatore che ha visto la trasmissione stasera avesse la curiosità e dice, se vado sul sito di Pasquariello vado a fare l'ordine. Come dicevo prima, ci sono due possibilità, o tramite il sito www.pasquariello.net, fate l'ordine, in due giorni vi arriva a casa, oppure tramite Whatsapp al 339 88 419 66. Quindi basta scrivere informazioni sulle colombe, vi verranno dati in automatico. Ripeto, noi siamo velocissimi nelle spedizioni, nel giro di due giorni, c'è gente che negli altri anni il venerdì ci ha fatto l'ordine, per la domenica riuscivamo a farglielo avere. La domenica di Pasqua addirittura. Sì, noi spediamo in tutto il mondo, ho la fortuna dopo tanti anni di spedire in quasi tutte le parti del mondo, l'Europa ormai la copriamo capellarmente e in Europa diciamo che in quattro giorni il prodotto arriva a casa, in Italia massimo 48 ore. E noi siamo vicini a Pasqua, quindi chi volesse magari fare un acquisto un po' diverso da quello che trova. Se vogliamo, le posso rubare due minuti, parlerei della qualità, io dico sempre, lo dicevamo prima fuori onda anche questo. In queste feste, anche quando bisogna fare un regalo, diamo un attimino attenzione, facciamo un attimino di attenzione alla qualità. Spendiamo qualcosina in più però, sulle nostre tavole portiamo a qualità, perché io dico sempre, meglio mangiare qualcosina in meno, è inutile abbuffarsi a mangiare prodotti di qualità, perché ne va di mezzo alla nostra salute e poi alle spalle di questi prodotti ci sono artigiani, famiglie che lavorano con tanta passione e tanto amore, cercando di preservare quelle che sono le tradizioni italiane. Quindi io dico sempre, spendiamo qualcosina ma compriamo prodotti di grande qualità. Assolutamente sì. Ecco, Andrea De Donno, ritorniamo a parlare questa volta dell'azienda di Andrea De Donno, che è la Blue Sec. Di cosa si occupa la Blue Sec? Blue Sec è un'azienda, nasce nel 2012 nel canton Ticino, si occupa di brand protection e di cyber investigation, tutte attività di audit e servizi per la tutela dell'imprenditore, tutela del patrimonio aziendale, come può essere il segreto industriale, la protezione di determinati processi e soprattutto protezione dalla contraffazione. Questo peraltro è un punto, a parte l'amicizia che ci lega con il Car24, è il legame che ha Blue Sec ad esempio col mondo automotive, dove ormai i ricambi dalle auto utilitarie alle super sportive superano il 40% a livello di contraffazione. Quindi noi siamo sempre alla ricerca di attività di contrasto e di tecnologie particolari per effettuare delle marchiature invisibili, però che possano permettere all'azienda di tutelare tutta la filiera produttiva. Quindi un'applicazione diretta proprio sul mondo delle automobili. Sì, anche delle automobili, anche del fashion ovviamente, come ben si sa il fashion è imitatissimo. Ebbè il Made in Italy in particolare, anche i nostri cugini francesi penso che subiscano parecchio questo danno, perché poi alla fine è un danno. Io penso alle borse soprattutto, a tutto il discorso della pelletteria. Pelletteria sì, borse e scarpe assolutamente. È un po' in tutto, anche nel mondo dell'alimentazione c'è tantissima ricontrofazione. Parlavamo prima del pistacchio, non si fa presto a parlare di pistacchio originale, ma poi ne arrivano camionate dalla Tunisia, dall'altra parte dell'America. Quindi vogliamo dire prodotti, purtroppo questo è un fenomeno che secondo me è capillare in un po' tutti i settori della produzione, soprattutto italiana, perché poi l'eccellenza italiana, l'abbiamo detto prima, viene imitato con facilità e quindi bisogna in tutti i modi tutelarli. Che è un lavoro che faccio anch'io sul prodotto alimentare. Vorrebbero copiare ma non ci riescono. Per fortuna poi, se stiamo attenti, capiamo che c'è una grande differenza. Se andiamo all'estero non si riesce a mangiare bene da nessuna parte. No, no, assolutamente. Quindi, no, voglio dire, penso che non ci riusciranno mai. Per fortuna noi abbiamo l'arte, abbiamo il prodotto che è una cosa fondamentale, abbiamo la storia dalla nostra parte, le nostre nonne, le nostre mamme che sanno ancora cucinare come una volta e poi abbiamo, ripeto la tradizione, ma abbiamo la materia prima e la sappiamo lavorare soprattutto e questo all'estero ci invigiano tantissimo a questa cosa qui, per fortuna. Bene, vogliamo ricordare ancora una volta ai telespettatori l'evento Milano-Portofino. Sì, 28, 29, 30 aprile 2023. Primissima edizione. Questa non è una revocazione storica, ho sottolineato apposta che è una primissima edizione, ma è una novità perché è la prima volta in una storia che viene organizzato un evento che tocca queste due eccellenze che è Milano e Portofino. È un evento nuovo dove però si percorreranno le strade che percorrevano i nostri nonni all'epoca quando andavano in Liguria partendo da Milano, quindi tutte le strade secondarie. Ah, però. Quindi sarà un viaggio lungo, intenso, ma appassionante, emozionante. Poi il milanese è sempre andato a Santa Margherita, no? Sì, forse molto gettonati. Quindi è un connubio inevitabile alla fine questo qui. E effettivamente ripercorre quello che era una volta, perché adesso forse è un po' meno, ma una volta il milanese, la sua meta, la meta del mare era quella. Il Tiguglio, sì. Gettonato anche per la vicinanza. Ah, sì. Ah, sì, non c'è dubbio. Benissimo. E voi avete un sito, un sito internet? Sì, www.milanoportofino.com dove si può vedere un filmato, il programma dell'evento, esattamente, e poi il modulo di iscrizione che per questa prima edizione, ovviamente in sold out, si parlerà per il 2024. Sì, saremo poi date per il 2024. Poi in super, super anteprima, vi posso dire che molto probabilmente per l'edizione 2024 ci sarà un evento legato al mondo del cinema. Bello. Però non posso svelare di più. Eh no, dobbiamo mantenere la riservatezza fino all'anno prossimo. Benissimo, io ricordo a tutti gli spettatori che i video di queste trasmissioni possono essere riviste sul sito di Centurion Payroll Service a www.centurionpayroll.com. Ringrazio gli ospiti di stasera per il bel contributo che hanno dato alla trasmissione. Un bocca al lupo, eh? Grazie. Grazie. Per tutto quello che vi riguarda e a presto. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera. In collaborazione con Centurion Payroll Service, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda.